Salute a tutti e bentornati a fisicamente. Come ogni inizio del mese vi faccio l'astrolabio del mese quindi anche oggi vi andrò a parlare di costellazioni, sole, pianeti e se rimarrete come fino alla fine anche di comete e asteroidi. Iniziamo quindi con le costellazioni. Le costellazioni principali che dominano i cieli di maggio sono il leone e la vergine che saranno visibili verso sud durante tutta la nottata. Allo zenith quindi verticalmente sopra di noi sarà l'orsa maggiore a farla da padrona. La prima costellazione che andrà a tramontare è il Bootes, in italiano il Bovaro, mentre guardando verso est nelle parti finali della notte si vedrà sorgere la lira che ci preannuncia l'arrivo dell'estate insieme alle altre due costellazioni dell'aquila e del cigno. L'aquila, il cigno e la lira compongono quello che è chiamato il triangolo estivo, quindi proprio un insieme di costellazioni che hanno tre stelle principali molto luminose che dominano i cieli estivi. Nel mese di maggio la durata del giorno aumenterà di circa un'ora, quindi tra l'inizio e la fine di maggio avremo un'ora in più di luce al giorno. Ai primi di maggio il sole sorge verso le sei e tramonta alle otto e un quarto, mentre alla fine di maggio il sole sorgerà alle sei meno venti del mattino e tramonterà alle nove meno venti di sera. Il 7 maggio ci sarà la luna piena, però non sarà una super luna come nel caso di aprile, perché la luna non si troverà nel suo punto più vicino alla terra, quello che è chiamato il perigeo. Una settimana dopo avremo l'ultimo quarto di luna, mentre il 22 maggio avremo la luna nuova, ossia non ci sarà la luna in cielo perché sarà praticamente allineata col sole e una settimana dopo potremo rivederla con il primo quarto di luna. Passiamo ai pianeti ed iniziamo con Mercurio. Oggi è il giorno in cui Mercurio è praticamente allineato con il sole, quindi è impossibile vederlo. Per fine mese dovrebbe tramontare un paio d'ore dopo il sole, quindi andranno via via migliorando le condizioni per poterlo osservare. Venera ha dominato i tramonti degli ultimi mesi, è sempre stato quell'astro molto molto intenso che si poteva vedere subito dopo il tramonto del sole verso ovest. È come una stella molto molto grande, molto molto luminosa, che però è ferma, non brilla, ed è lì che ci sta a dire che quello non è una stella ma è un pianeta, era proprio Venere. Nel mese di maggio Venere andrà a scendere molto rapidamente in direzione del sole, quindi andrà via via a scomparire dal cielo subito dopo il tramonto del sole. Nei primi giorni di giugno andrà ad essere allineata quindi in congiunzione con il sole e poi piano piano sarà possibile rivedere Venere però non più al tramonto ma al mattino prima che il sole sorga. Abbiamo poi quel trenino di pianeti che si può osservare la mattina, abbiamo Giove, Saturno e poi dopo un po' abbiamo Marte che via via nel mese di maggio andrà a separarsi sempre di più dalla coppia dei pianeti Giove e Saturno. Tra il 10 e l'11 maggio a Giove e Saturno capiterà qualcosa di molto particolare. Per ora loro stanno continuando a muoversi da est verso ovest. Quello che succederà è che a un certo punto faranno quello che è chiamato un moto retrogrado, quindi si fermeranno e incominceranno a muoversi in direzione opposta. Questo ovviamente non è dovuto ai pianeti Giove e Saturno che nella loro orbita si fermano e tornano indietro è semplicemente un effetto ottico. Perché? Perché la Terra li sta sorpassando essendo in un'orbita più interna e quindi muovendosi più velocemente e quindi quello che noi andiamo a vedere rispetto alle stelle fisse che sono molto più lontane è il movimento di Giove e Saturno che sembra andare indietro. Ma in realtà non è loro due che si stanno spostando indietro, è la Terra che li sta sorpassando. Ci saranno anche diverse congiunzioni, ossia la Luna molto vicina ai pianeti che sarà possibile osservare nel mese di maggio. Il 12 maggio la Luna Calante sarà in congiunzione con Giove. La notte seguente potrete vedere il falcetto di Luna che ha passato Giove, ha passato Saturno, quindi vedrete Giove e Saturno che sono distanti più o meno 5 gradi e poi il falcetto di Luna Calante. Giusto per darvi un'idea, la dimensione della Luna è di mezzo grado, quindi la distanza che c'è, la distanza apparente ovviamente, tra Giove e Saturno è più o meno 10 volte il diametro apparente della Luna. Pochi giorni dopo, quindi la notte del 15 maggio, la Luna si sposterà dopo aver passato Giove e Saturno e andrà a raggiungere Marte. Il 22 maggio non perdetevi la congiunzione tra Venere e Mercurio, quindi vedrete subito dopo il tramonto del Sole Venere molto brillante ma lì vicino ci sarà anche Mercurio. Due giorni dopo, il 24 maggio, a questa coppia Venere e Mercurio si aggiungerà anche un piccolo falcetto di Luna crescente, quindi avremo una congiunzione tra la Luna crescente, Venere e Mercurio. Nel mezzo di maggio sarà possibile vedere anche delle stelle cadenti e nella fattispecie lo sciamo meteorico è quello delle Acquaridi, che sarà visibile tra il 3 e il 10 maggio con un piccola notte tra il 5 e il 6 maggio. Questo sciamo meteorico prende il nome della costellazione dell'Acquario perché è proprio lì che si chiama quello che è chiamato il radiante di queste stelle cadenti. Vuol dire che da questo punto nella costellazione dell'Acquario dipartono tutte le stelle cadenti che noi andremo a vedere. E un punto immaginario questo sta semplicemente a dirci che la cometa che dopo essersi frammentata ha dato origine a tutti questi frammenti che quando entrano nell'atmosfera terrestre prendono fuoco e si illuminano ed è quello che noi vediamo come la traccia delle stelle cadenti, ebbene tutti quei frammenti si trovano nello spazio in una zona molto descritta molto precisa che è appunto la costellazione dell'Acquario ed è questo che dà il nome a tutti gli sciami meteorici quello delle Perseidi e quello della notte di San Lorenzo ma questo di maggio e cade nella costellazione dell'Acquario e quindi si chiama delle Acquaridi. Si dice che la cometa che abbia generato questi frammenti sia niente poco di meno che la cometa di Alei che è una cometa che è notissima è stata osservata diverse volte e ha un periodo intorno al sole di 72 anni quindi regolarmente già da migliaia di anni ogni 72 anni si ha la possibilità di osservare questa cometa anche della terra. Giusto per intenderci possiamo immaginare che la cometa di Alei abbia perso dei frammenti esattamente come ha fatto alla cometa Atlas qualche settimana fa. La cometa Atlas si è disintegrata del tutto invece la cometa Alei può avere semplicemente perso dei frammenti più superficiali non si è disintegrata del tutto e ha continuato la sua strada. Abbiamo già detto che lo spettacolo della cometa Atlas purtroppo è saltato per questo mese di maggio perché si è frammentata mentre si stava avvicinando verso il sole. Speriamo però che a sostituirla verrà la cometa Svan di cui ho fatto un video vi metto il link nella descrizione. Per ora questa cometa ha una magnitudine di 8 quindi non è visibile a occhio nudo perché la magnitudine limite che noi possiamo vedere con l'occhio nudo è di 6 però si pensa che verso la fine del mese possa raggiungere magnitudine 3 quindi essere perfettamente visibile ad occhio nudo subito dopo il tramonto verso nord ovest. In data 27 maggio la cometa Svan raggiungerà il perielio ossia sarà nel punto più vicino al sole nella sua orbita. Parliamo infine di asteroidi sono tre gli asteroidi principali che si potranno vedere nel mese di maggio. Il più famoso è l'asteroide chiamato Juno ossia in italiano giunone ed è stato il terzo asteroide mai scoperto. È stato osservato per la prima volta nel 1804. Impiega più o meno 4 anni e mezzo a fare un giro intorno al sole e sappiamo che ha un'orbita abbastanza schiacciata abbastanza elittica perché l'elettricità è 0,25. In data 8 e 23 maggio sarà possibile vedere altri due asteroidi chiamati Dembovska e Isis. Entrambi saranno in opposizione quindi si potranno vedere perfettamente a mezzanotte verso sud. Tutti e tre questi asteroidi avranno una magnitudine intorno a 10 quindi comunque ci servirà un piccolo telescopio o un cannocchiale per poterli osservare. Benissimo questo era quello che vi volevo raccontare per il cielo di maggio quindi ricapitolando abbiamo speriamo una cometa che potrà far vedere una bella coda come aveva fatto la Heilpop negli anni 90. Poi avremo uno sciame di stelle cadenti, dobbiamo guardare verso sud nelle prossime due settimane e poi avremo delle belle congiunzioni tra la luna e i pianeti. Se avete domande scrivetemi pure un commento come sempre. Autostoppista, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e alla prossima!